Sono circa 5.000 le persone provenienti dalla Libia e tratte in salvo negli ultimi due giorni mentre stavano navigando a bordo di 5 barche e 18 gommoni e che stanno giungendo nei porti del sud Italia, grazie all'operazione di salvataggio operate dalla Guardia Costiera e dalle altre navi impegnate nell'operazione Frontex. Di questi 573 sono giunti questa mattina presso il porto di Vibo Marina, dove dalle 8 sono in atto le operazioni di sbarco. Fra loro 69 donne e 153 minori. Molte riportano degli austioni dovute agli agenti chimici, in quanto proprio loro sono ad essere posizionate sul fondo dei gommoni, dove il mix di acqua di mare e gasolio insieme al sole coccente agisce quasi fossero fiamme vive. A trasportare quest'altra ondata dei disperati provenienti per lo più dall'Africa subsahariana e dalla Siria, la nave OPV-KBV della Guardia Costiera Svedese, che li ha raccolti in mare aperto mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo. Sulla nave si trovano anche due salve, precedentemente trasbordate da una nave spagnola. Dopo la pausa chiesta dal prefetto in seguito al maxisbarco, che ha provocato non poche difficoltà nella macchina organizzativa dell'accoglienza vivonese, sul porto di Vibo Marina il lavoro è ripreso con regolarità, per rendere i più veloci possibili le procedure di identificazione, in modo da rendere il piano di ripartizione predisposto dal Ministero dell'Interno, attuativo e che vede i migranti trasferiti in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia, Abruzzo e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Nel Vibonese rimarranno solo i minori non accompagnati. Questo è il 33esimo sbarco nel porto di Vibo Marina da quando sono iniziati nel 2014, l'ottavo di quest'anno e il numero è destinato ad aumentare in maniera esponenziale, portando la cifra inerente i profughi a diverse decine di migliaia.